Buongiorno, oggi in viaggio con iCare ha raggiunto Napoli. Non è stato semplice organizzarla perché come sempre abbiamo cercato attraverso i nostri consiglieri regionali, i nostri referenti, di raggiungere un ospedale, un'area ospedaliera che consentisse anche ai colleghi di venirci ad incontrare. Causa lavoro in corso, causa acquazzoni improvvisi, causa difficoltà e dubbi che ci hanno assalito anche per l'aumento dei casi che sta colpendo la vostra regione e anche per le direttive regionali che ci aspettavamo potessero irrigidirsi. Non a caso De Luca ha costretto tutti a indossare la mascherina 24 ore su 24. Alla fine abbiamo deciso questa location che però non ha impedito a voi di essere con noi, anche se mi spiace non ci sia il professor Servillo che avevamo invitato a impegni, per confrontarci su quelle che sono le sfide non solo cliniche ma anche organizzative nelle quali sicuramente potete darci un contributo. Rispetto alle altre regioni abbiamo avuto la sfortuna al sud di non esserci esercitati, è una fortuna ma è anche una sfortuna durante le fasi critiche, la fase 1 e la fase 2. Ora ci aspetta una riorganizzazione del sistema sanitario nazionale sicuramente, regionale che avrà sicuramente delle peculiarità diverse da quella di altre regioni ma io credo che sia molto importante la voce dei professionisti e degli specialisti della nostra disciplina quindi vorremmo con questo confronto portare degli input sia alla politica nazionale che per quanto posso al comitato tecnico scientifico nel quale rappresentiamo io e il professor Antonelli e la nostra disciplina. Allora io credo che la cosa migliore senza disconoscere il presidente o coordinatore non so come si dica dei responsabili collegio dei primari della Campania e senza nulla togliere a Pasquale Sansone attualmente componente del direttivo né alle altri due colleghi che hanno fatto parte comunque fanno parte del nostro consiglio regionale. Do la parola per dovere all'ex presidente, presidente Antonio Corcione che quando è arrivato gli hanno fatto tutti una festa che io sono invidiosa perché nessuno mi farà mai più una festa così come fanno a te perché possa iniziare questo discorso. Andiamo a ruota libera ci confrontiamo, io prenderò degli appunti e abbiamo un'ora per confrontarci. Grazie, grazie presidente e complimenti, complimenti da tutti noi della Campania per il lavoro che state facendo perché mettere su un track così, andare in giro, per chi ha fatto il presidente vi assicuro non è per niente facile, quindi complimenti a te, a tutto il tuo staff, a tutto il consiglio della Siarti. Bene, noi siamo qui a Napoli, vedete c'è il lungomare, c'è un mare tranquillo che è una tavola, le barche che beleggiano e questa dimostra la fantasia di noi napoletani. In realtà siamo qui circondati da tutti gli ospedali più grandi di Napoli, abbiamo di fronte come panorama il Pasquale, l'Istituto dei Tumori, l'Iccardarelli, alle nostre spalle c'è il Policlinico, il nuovo e secondo Policlinico, il Monaldi e il Cotugno, quindi siamo proprio al centro dei vari problemi gestionali della sanità in Campania, non solo qui perché abbiamo Salerno, Avellino, ma insomma in questo momento siamo al centro di ospedali importanti. La Campania è stata, insomma, un periodo di Covid, soprattutto si è difesa la grande, forse il nostro vantaggio è che abbiamo visto, ahimè, l'esperienza negativa degli amici colleghi della Lombardia e quindi siamo stati un po' più pronti a prepararci, insomma a differenza di loro, quindi loro sono stati i primi in assoluto perché non avevano nessun consiglio, avevamo delle cose che arrivavano dalla Cina molto così, molto vattate, molto discordanti e quindi abbiamo iniziato da zero. La Lombardia è stata, sì, la regione più colpita, ma è quella che ha lavorato all'improvviso con problemi veramente, devo dire, i colleghi tutti della Lombardia sono stati eccellenti nell'affrontare questo problema molto, ma molto serio come tutti noi sappiamo. Ma io inizierei, se il Presidente d'accordo, con Arturo Cuomo. Arturo Cuomo, come dicevo, è il Presidente del Collegio dei Primari, ma è soprattutto il Primario del Pascale. Il Pascale è lo studio dei tumori e che è stato un ospedale non Covid, sempre non Covid, attualmente non Covid, e cosa avete fatto voi per cercare di portare avanti un discorso di efficienza con le problematiche che c'erano comunque sempre con l'allerta Covid e trattare i pazienti? Come avete potuto gestire il tutto? Non era facile, ma siete riusciti a fare un bel lavoro. Sì, sì, grazie Antonio. Benvenuto al Presidente. Cosa abbiamo fatto? In realtà noi siamo stati individuati dalla Presidenza regionale come ospedale Covid Free perché l'intendimento del Presidente De Luca è stato quello di salvaguardare e tutelare ovviamente i percorsi diagnostici e terapeutici dei pazienti oncologici. Quindi questo aspetto credo che abbia caratterizzato un po' con la nostra regione, nel senso che tutto quanto ha riguardato i percorsi di cura e di assistenza dei pazienti oncologici non è stato eccessivamente penalizzato, forse è stato penalizzato per nulla dalla pandemia. Chiaramente questo ha richiesto da un lato a noi come Pascale un sforzo organizzativo importante, ma si è potuto verificare solo perché c'è stata una grande coesione con l'intero sistema ospedaliero regionale e in particolare noi abbiamo potuto essere Covid Free perché intorno a noi ci sono stati grandi supporti organizzativi e assistenziali da parte per esempio dell'azienda dei Colli, da parte delle università e anche da parte degli ospedali più propriamente impegnati ovviamente nel trattamento e nell'accoglienza dei pazienti affetti da Covid, da coronavirus. Quello che noi abbiamo fatto devo dire noi siamo stati tempessivi, cioè nel senso che già a febbraio, una domenica di febbraio arrivò un avviso di riunione urgente, ricordo erano le 18, fumo convocati noi direttori di dipartimento e i direttori di struttura complessa in direzione generale perché si capì che la pandemia comunque avrebbe riguardato anche noi, le notizie che arrivavano al nord Italia erano ovviamente molto chiare in questo senso e quindi si decise che bisognava creare dei percorsi che consentissero ai nostri pazienti di proseguire nelle cure. Per cui che cosa è stato fatto? In tempi molto precoci sono stati attivati i triage così come li avevano attivati le regioni che erano molto più avanti e molto più colpite di noi nella pandemia. Quindi ci siamo resi conto che se avessimo veramente voluto mantenere l'ospedale Covid free dovevamo agire esattamente come se fossimo l'ospedale più interessato dal Covid. Quindi triage rigorosi, abolizione dei follow up a lungo termine, quindi differimento di tutto ciò che si riteneva non fosse necessariamente impellente. Abbiamo attuato dei percorsi interni che prevedevano comunque la possibilità che in caso di paziente Covid si fosse attivato una stanza a pressione negativa rianimazione, si fosse attivata una rianimazione secondaria da attivare nel caso avessimo avuto una positività. Abbiamo attuato strategie di tutela della salute del personale molto forte, molto rigorose. Per dirne una abbiamo attivato i tamponi a cadenza programmata al personale quando nessuno faceva tamponi al personale. Abbiamo attivato tutto ciò che poteva servirci in termini di acquisizione di DPI perché anche quello ci sembrava una tutela doverosa. Abbiamo proceduto da subito a un'organizzazione di sanificazione subentrante dei vari piani. Abbiamo fatto i test su sangue periferico a tutti i pazienti precocemente e l'individuazione dei pazienti a rischio ci ha consentito di attivare dei percorsi di trasferimento immediato dei soggetti a rischio presso l'azienda dei Colli. Abbiamo continuato a tenere attivi questi percorsi anche nei periodi che sembravano meno pressanti dal punto di vista pandemico. In estate noi abbiamo continuato comunque ad agire in questa maniera e tuttora ovviamente lo stiamo facendo. L'unità di crisi interna si fa riunioni ogni 48 ore ovviamente non in presenza ma sfruttando la nostra piattaforma telematica. e quindi questo che cosa ci ha consentito? Ci ha consentito e tenete presente che la difficoltà è stata per dirne una che noi eravamo partiti con l'obiettivo di monitorare i pazienti. I primi due casi sono stati due colleghi e che è stato un classico. Quindi questo, il tracciare tutti i contatti interni, monitorare i contatti interni, tamponare, insomma è stato un impegno notevole. Devo dire che la gratificazione di questo percorso l'abbiamo avuta nel momento stesso in cui nel primo semestre del 2020 abbiamo fatto quasi il 10% in più di interventi chirurgici del primo semestre 2019, abbiamo fatto il 15% in più di chemioterapie rispetto al primo semestre del 2019, quindi c'è stato addirittura un aumento di erogazioni di cure, d'altro non è concepibile col fatto che come noi sfruttavamo i colleghi e le unità che loro dirigono per la gestione dei casi sospetti, analogamente noi eravamo disponibili in qualche modo a alleviare il loro carico di lavoro per i pazienti oncologici. Bene, bene, io devo aggiungere che mi riferisco, è ricitato spesso l'azienda dei Colli, che l'azienda dei Colli grazie a un lavoro dalla direzione strategica di tutti è riuscita in tre giorni a creare 24 posti di rianimazione non Covid in aggiunta a quegli 8 posti che c'erano a Cotugno, con percorsi separati e senza convertire i posti di rianimazione e questo ha consentito una riduzione del liste di pazienti oncologici portando a 10 giorni i pazienti di chirurgia toracica considerando che si operava a due sale operatori dedicati alla toracica a 4 interventi al giorno, quindi ha comportato una riduzione di pazienti oncologici di chirurgia toracica, orologia, di chirurgia generale e soprattutto la cardiurgia non si è mai fermata, quindi è stato un lavoro veramente, i complimenti non vanno a me ma a tutta l'organizzazione aziendale, quindi siamo stati interessanti. Io chiedo scusa se, Presidente, se non ho dato la parola alla professoressa Pace per prima, ma adesso per rispetto delle quote rosa dobbiamo assolutamente... Non le chiamiamo quote rosa, noi parliamo di gender balance e mi fa piacere che la professoressa Pace abbia ieri registrato la sua lettura per il congresso iCare perché la società ha una grande attenzione a un aspetto, non c'è dubbio che le donne in medicina siano aumentate nel tempo, la società scientifica ha più del 53% di soci e di sesso femminile, ma a me come molte società europee stenta a inserire ricercatrici e relatrici di spessore ovviamente nel congresso, per fortuna stiamo migliorando, siamo partiti un po' più bassi ma abbiamo raggiunto quest'anno il 30% mi sembra grazie alla guida sapiente di Gilda Cinnella e mi fa piacere che Caterina Pace proprio ieri abbia registrato una lettura sull'importanza del gender anche nella ricerca e nello sviluppo dei farmaci e delle terapie perché questi aspetti purtroppo sono aspetti che stanno emergendo. Quindi mi fa piacere adesso che Caterina ci possa dare un suo contributo non solo su questo, perché io credo che anche nei rapporti interni ci sia stata una difficoltà e voi avete fatto emergere quanto avete collaborato, questo purtroppo cambierà il nostro futuro, la collaborazione tra le reti delle scuole e gli ospedali e il territorio, poi Chiumento ci parlerà di questo. Infatti sono molto preoccupato perché stranamente è un periodo storico in Campania che tutti i primari arrivano d'accordo, mi riferisco all'anestesia campana e rianimazione. Sto divergendo da tutte le regioni, non stranamente, ci ha dato un'opportunità che non possiamo sprecare. C'è un rapporto di amicizia, collaborazione e professionalità che quando erano un po' più giovani non nemmeno accorgivano, adesso invece è così evidente che siamo felici di questa... Le barriere sono cadute. Sì, non ci sono più barriere. Io credo che questo sia stato una delle cose più importanti nella nostra organizzazione perché al di là del grosso livello di comunicazione e di amicizia che c'è nel collegio regionale dei primari presieduto da Arturo, ma io credo che in questo momento difficoltà abbiamo fatto rete e questo dovrebbe diventare poi una cosa precisa, diciamo, con tutte le rianimazioni d'Italia perché i nostri colleghi della Lombardia, del Veneto, eccetera, che avevano grosse difficoltà però hanno fatto molte riunioni, molti webinar proprio per in qualche modo mettere in luce le loro difficoltà e aiutarci a prevenirle, insomma, rispetto a questo terremoto che si è abbattuto su di loro. Da noi lo facciamo in continuazione, in questo periodo di Covid è stato veramente una grossa fortuna perché indipendentemente dalle reti del 118, da tutta l'organizzazione regionale che ha funzionato però c'era la nostra organizzazione interna che ci permetteva di sapere in anticipo i posti che ci stavano su chi avremmo potuto in qualche modo fare riferimento, eccetera. E questo ci ha aiutato molto. Così come ci sta aiutando molto adesso l'organizzazione perché è chiaro che se io ho un limite dettato dai problemi Covid, eccetera, sapere e avere come amico Arturo e quindi sapere di poter collaborare con lui per quanto riguarda un paziente oncologico che eventualmente per una qualsiasi ragione non può essere ricoverato da me, oppure è un paziente cardiochirurgico praticamente con Antonio, per noi è una grossa sensazione di sicurezza. E per quanto riguarda noi, diciamo la nostra direzione strategica, il nostro direttore generale ha ancora una volta posto al centro il problema della comunicazione, cioè siamo stati in comunicazione praticamente tutti i giorni con noi e in questo momento, per esempio, in cui c'è un'ulteriore emergenza, abbiamo organizzato proprio per tutelare, diciamo, le patologie che purtroppo nei periodi Covid sono state un poco, diciamo, maltrattate, tra virgolette, abbiamo organizzato un padiglione esclusivamente Covid, quindi il piano delle malattie infettive dove già ci sono i Covid e poi abbiamo organizzato praticamente dei posti di terapia intensiva, di subintensiva, nello stesso padiglione, in modo da non inquinare le nostre rianimazioni e di dare la possibilità ovviamente agli altri pazienti di potersi curare normalmente, di non bloccare le sale operatorie, eccetera. Quindi abbiamo fatto un percorso che speriamo regga anche in questo momento di emergenza senza dover tagliare oltre, proprio per cercare di differenziare quanto più è possibile i percorsi Covid-free da quelli invece Covid. Il problema un po' più complicato ovviamente è il personale, perché sappiamo bene che la rianimazione non è un ventilatore, quindi significa che ci vuole personale anestesista in più, ci vogliono infermieri in più e ci vogliono portantini in più, cioè tutte quelle persone che in qualche modo sono rappresentanti della cura in rianimazione. E questo, cioè noi abbiamo fatto un concorso, sempre grazie alla nostra direzione, che devo dire è agito proprio molto velocemente per anestesisti, ma comunque non siamo in grado ancora di coprire, di differenziare completamente i due tipi di percorsi. Speriamo che questo possa essere un obiettivo futuro, insomma. Così come un obiettivo futuro dovrebbe essere cercare di creare delle situazioni intermedie, tipo per esempio le terapie subintensive, che sono ancora molto poche, in modo tale da in qualche modo drenare le rianimazioni da pazienti che potrebbero non stare più lì. E questo è un'altra cosa su cui ci stiamo... Poi lo vede il problema è che alcune cliniche sono locate al centro di Napoli, altre sono qui nella prima facoltà, quindi è ancora più complicata la gestione di creare dei percorsi. Ma abbiamo su... perché il nostro policlinico praticamente è su più poli, quindi alcuni al centro storico, alcuni al Federico II, alcuni al Monaldi, alcuni addirittura al CTO. Quindi diciamo che è stato più complicato come organizzazione, però anche in questo caso ci hanno dato una grossa mano loro, perché in effetti al Monaldi siamo rientrati nella loro organizzazione, al CTO, nell'organizzazione del CTO, e quindi diciamo che non abbiamo avuto grossi, grossi problemi. Bene, io volevo approfittare, visto che parliamo del policlinico, di portarvi saluti al professor Servillo, che si scusa ma ha avuto problemi istituzionali, per cui non è qui con noi. Ma mi diceva di dirvi che lui, tra le tante cose che lui si interessa, da sempre porta avanti le problematiche legate al burnout. Bene, durante il Covid ha raccolto dei dati molto interessanti che a breve saranno pronti e li saranno portati al nostro Presidente, la professoressa Petrini, in modo da farli conoscere a tutti in Italia. Io vorrei, se è possibile, inquadrare bene il dottor Fernando Chumento. Non era così prima del Covid, credetemi. Aveva i capelli lunghi, aveva uno sguardo disteso. Vedete come si è ridotto. E bisogna dare una spiegazione. Lui è il capo di partimento di Salerno. L'Asa di Salerno è di 200 chilometri. Ci sono 11 ospedali, sembrano 11 terapie intensive. E su 200 chilometri, paziente che sta lontanissimo, come poter gestire. Eppure ci sono riusciti. Cosa avete combinato? E in più, bisogna dire che nel territorio dell'Asa di Salerno c'è un'azienda ospedaliera universitaria autonoma che comunque rappresenta l'ospedale di riferimento del capoluogo di questa grossa provincia. Allora, quello che abbiamo combinato, come hai detto tu inizialmente, diciamo, ci sono state, come sappiamo tutti delle indicazioni regionali precise dovevamo raddoppiare i posti di terapia intensiva secondo me col rischio che potevamo correre di mettere pazienti covid di tutti gli 11 ospedali dell'Asl. In realtà poi la nostra direzione generale da questo punto di vista è stata molto celere. Ha organizzato una unità di crisi in cui c'erano tutti i direttori dei dipartimenti e abbiamo deciso di concentrare gli ammalati in realtà su due poli. Due poli preparando un terzo polo nel caso che la situazione dovesse ulteriormente peggiorare ed in questo modo, diciamo, abbiamo evitato il pericolo più grande che era quello poi di portare malati covid appunto in tutti gli ospedali. Faccio una riflessione che credo che sia comune a tutti quanti noi. Durante il periodo più critico penso che tutti quanti abbiamo avuto questa sensazione che di colpo non c'erano più infarti, non c'erano più ictus, non c'erano più traumi della strada. Nessuno. su quello che è stato, perché quello che è stato è stato. Su quello che deve essere adesso, perché noi da una parte credo che la sfida organizzativa sia questa. Organizzare degli ospedali sicuramente per i malati covid, tenendo conto però che le altre patologie, soprattutto quelle tempo dipendenti, continuano ad esistere. bisogna per esempio pensare a un percorso di un paziente che ha un ictus cerebrale, che poi scopriamo che è positivo al covid. Io non è che lo posso portare negli ospedali covid, perché c'è il covid, lo devo portare negli ospedali di riferimento. Quindi anche secondo me in quegli ospedali dove, diciamo, covid free, bisogna preparare dei percorsi per queste cose. Devo dire che in questo caso l'Asia Arti ci ha dato una grossa mano, perché per esempio i percorsi del paziente chirurgico, le altre indicazioni che la società scientifica ci ha dato sulla terapia intensiva, nella mia realtà, ma credo sia un'idea di tutti quanti, sono stati degli ottimi punti di partenza, perché ovviamente adattandoli qualche volta alle nostre realtà. Un'Asia che è soprattutto territorio, perché è vero che da noi ci sono 11 ospedali, però ci sono credo una trentina di distretti sanitari. Ovviamente pone anche il problema di confrontarsi con la medicina territoriale, anche perché la medicina territoriale, lì dove non ha funzionato, forse nelle regioni del nord, abbiamo visto quello che... Perché la medicina territoriale può rappresentare un ottimo filtro per evitare che almeno quei pazienti meno gravi giungano da noi. Da noi stiamo facendo le prime esperienze con queste USCA, queste unità territoriali, devo dire che per adesso ritengo che sia una esperienza positiva, anche se va un attimino rodata meglio. Va rodata meglio perché secondo me mi hanno stabilito bene dei criteri che poi devono portare l'USCA ad allettarsi e quindi a dire che questo paziente deve andare in ospedale. Perché forse un altro errore che è stato fatto nella fase che ci sono arrivati, almeno questa è la mia... Troppo tardi. Ci sono arrivati troppo tardi. Questo l'abbiamo notato. Sai, grazie per averlo sottolineato, perché è uno dei valori che per esempio in Piemonte è stato espresso meglio. Ci raccontava Livigni, hanno anche pubblicato un documento su come loro anestesisti e rianimatori sono riusciti a fare di necessità virtù sfruttando un po' la grande linea della rianimazione fuori dalle mura della rianimazione emergenza introspedaliera. Hanno distribuito le loro risorse, per esempio gli specializzanti di anestesia e rianimazione, a supporto di quei reparti che accoglievano per l'accesso quelle criticità lieve, ma addirittura sul territorio con i medici in medicina generale. Questo ha aiutato il personale medico-infermeristico diciamo meno abituato al paziente critico ad allertare più precocemente e nel step down dell'intensità assistenziale, come diceva Caterina, anche a facilitare il ritorno a domicilio e sul territorio di pazienti che hanno avuto cure intensive, perché non ci possiamo dimenticare che un'altra grave carenza dei nostri reparti è sempre stata e tuttora è la mancanza di supporto psicologico e diciamo per colmare questo problema di stress PTSD, ma anche quello della fisioterapia e riabilitazione. Purtroppo anche credo al Ministero si sono accorti che forse avevamo troppo enfatizzato le cure in ospedale e lasciato un po', poco il territorio. Quindi questo è un aspetto sul quale possiamo dire qualcosa anche noi. Poi è chiaro che sulle buone pratiche cliniche mi permetto solo di dire anche sui pazienti oncologici, ma anche sull'utilizzo di strategie che possono essere di aiuto per gestire, per esempio, il dolore. Perché noi stiamo con un tavolo interdisciplinare affrontando il problema di documenti un po' più strutturati sul dolore cronico non oncologico. Se i pazienti oncologici forse hanno dei riferimenti abbastanza precisi, il dolore cronico non oncologico è stato totalmente abbandonato in questa fase del nostro sistema sanitario. Quindi si sta impegnando. Profettiamo di Arturo. Dopo ci dirà magari qualche notizia dai tavoli tecnici. E io volevo aggiungere sempre un'esperienza se non è positiva in Campania. È stato Reo Lasla di Avellino. a Reano Irpino che è stato un momento tragico. C'erano un focolai proprio incredibile hanno chiuso. Bene, il direttore generale Maria Morgante insieme al suo staff e al dottor Maurizio Ferraro il primario anestesista hanno organizzato delle ambulanze con personale medico e infermieri che andavano a controllare a casa i pazienti e questa ha portato alla risoluzione del problema. Quella è stata la vittoria a Reano Irpino. Te ne sarebbe stata un'ecatombe. È stata un'operazione intelligente che ha fatto il direttore generale insieme a tutto lo staff. Maurizio Ferraro. Non voglio togliere tempo. Sì, perché io voglio provocarlo perché io so la risposta ma siccome qua siamo registrando per tutti gli scritti SIART quindi bisogna far capire a tutti cosa ha fatto la SIART in questo periodo? Come ha aiutato noi operatori? Questa è una bellissima domanda perché mi sento... Ti sei preparato? No, io sono preparato e spensabile del sud. Sono preparati e siamo preparati da mesi. Guardate che Marco Rossi ha risposto bene e anche Astrid. Perché ad essere sincero SIART è stata molto presente in questi mesi fin dall'inizio dell'emergenza della prima ondata adesso a pieno titolo possiamo dire che siamo in pieno della seconda ondata e per quanto riguarda la presenza della società in Campania mi sento di parlare anche per tutto l'area meridionale è stata costante attraverso la produzione di buone pratiche cliniche di documenti di riferimento per i colleghi anestesisti e gli animatori e non solo infatti devo dire all'interno di questa emergenza mi sento di dire che c'è stato anche un aspetto positivo un successo che è derivato da che cosa? Dalla collaborazione con altre professionalità con altri colleghi di altre specialità che attraverso l'azione degli anestesisti e gli animatori non solo hanno potuto comprendere ancora più a fondo la centralità dell'anestesista e gli animatori all'interno dell'ospedale ma anche di quello che è l'apporto che può dare un anestesista e gli animatori e la SIARTI alla formazione anche dei problemi di altri professionisti tra i quali anche pneumologi cardiologi e colleghi della malattia infettiva e questo è stato il grosso risultato della SIARTI durante la pandemia dal mio punto di vista cioè quello di aver integrato anche le professionalità le specialità all'interno degli ospedali stessi ancora per quanto riguarda la ricerca è nato questo incontro questa interazione costante tra i primari dei diversi ospedali della campagna come appunto dicevamo anche con Arturo Cuomo e poi anche con Antonio Corcione che devo dire è ugualmente stato molto presente e ci ha incoraggiato un po' mi sono assentato un mese mi sono assentato un volontario mi sono assentato però siamo tutti felici di rivederti qui con noi di buon umore soprattutto ho visto che è un periodo un po' particoloso mi metto in malattia così sto più tranquillo faccio meno danni no anche perché Antonio noi ci stiamo dimenticando del ruolo che tu hai in questa regione di coordinamento dei trapianti ci piacerebbe anche che ci dicessi qualcosa su se ci sono state criticità o come il centro nazionale quindi il centro regionale pensa di affrontare questa fase si ti ringrazio la domanda anche se io prima di rispondere ti volevo ancora profittare di qualcosa su una cosa molto bella che sta fatta se arti e mi riferisco all'umanizzazione la comunicazione anche per i pazienti vi dico che era comunicare con i pazienti tutti e Covid in particolare soprattutto quando si è in ospedale e si sa che la mortalità è di 3 a 1 cioè 3 morti e un guarito psicologicamente appesante non è molto facile uno ha un equilibrio psicofisico importante altrimenti sballa sballa sicuramente io vi racconto la mia esperienza soltanto e poi altre cose vi racconto dopo quando mi sono ammalato il rapporto era 3 a 1 mi sono resettato ho detto hai 63 anni verità l'ho fatto ieri allora avevo 62 anni e mezzo i tuoi figli sono tutti lavorando se mi avessero fatto fare un filmato un contratto se hai 63 anni i tuoi figli così 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 tu puoi morire io avrei firmato il contratto dico beh allora ora tutto in più sembra una banalità ma anche questo passa in te la testa e quindi volevo dire l'importanza del lavoro che ha fatto la ministra Letti che come sempre con tutto il gruppo della bioetica è fondamentale è fondamentale appunto puoi confermare se Arti è sempre stata attenta all'aspetto della comunicazione comunicazione in terapia intensiva in rianimazione e con il paziente diciamo che durante la pandemia questa qualità è emersa a pieno titolo e anche la capacità della società di poter essere presente in maniera capillare in tutte quante le realtà ospedaliera appunto come dicevo in conclusione ha fatto il network ha funzionato il network la rete si Arti la rete Campania la rete Area Sud ha funzionato durante la pandemia e il successo poi del track e della possibilità di portare iCare a casa dell'anestesista e del reanimatore a casa del medico chirurgo è il nostro benchmarking perché riusciamo a fare anche ad avere conferma di quello che è stato il nostro lavoro bene allora rispondo alla tua domanda io sono felicissimo e quindi ringrazio tutti gli anestesisti e i reanimatori della Campania ringrazio il centro regionale della pianta che poi è composto da oltre me due medici alcuni volontari e del personale amministrativo di sei persone bene in questo periodo covid sono aumentate le donazioni le osservazioni le donazioni e questo ha consentito attualmente di essere la terza regione in Italia per quanto riguarda i trapianti di cuore noi abbiamo fatto con l'altro ieri 18 trapianti e sopravvivenza 100% quindi a differenza di qualche anno fa abbiamo migliorato la qualità e devo dire che anche per quanto riguarda il reno per quanto riguarda il febri ci sono state più donazioni come ce lo spieghiamo forse eravamo più buoni noi con i pazienti trattavamo meglio i nostri pazienti comunicavamo meglio con i nostri pazienti può essere una risposta su cui riflettere perché molte volte noi non comunichiamo con i nostri parenti con i nostri pazienti con i parenti dei nostri pazienti li comunichiamo solo quando ci rendiamo conto che il paziente può donare e allora a quel punto siamo particolarmente vicini a quel familiare ma quel familiare è troppo arrabbiato per non essere stato trattato bene anche prima perché non aveva notizia non sapeva niente e molte volte rifiuta questo rifiuta perché non ha visto la comunicazione continua la collaborazione lo suguardo io ho sempre come esperienza di paziente devo dire io ho avuto una reazione allergica da Tocilizumab una reazione allergica che era sovrapponibile una reazione che già ho avuto al mezzo di contrasto una TAC 7-8 anni fa per cui un po' spaventato ma non molto e vedevo invece le persone che mi circondavano erano spaventatissime perché io sembravo l'esorcista sul letto che così mi hanno definito che si muoveva in maniera terribile bene io ricordo gli occhi di una collega che solo ieri ho scoperto chi era dolcissimi che mi guardava che mi cercava di dare tranquillità io ero tranquillo però mi ha colpito molto quegli occhi di questa collega ripeto che non ho mai capito che fosse l'ho scoperto ieri che si è dichiarata che era stata lei ad entrare in assenza quando ebbe la reazione allergica quindi secondo me dobbiamo modificare la comunicazione dobbiamo abbiamo aperto dobbiamo aprire perché non tutti hanno aperto le porte alla reanimazione adesso le abbiamo richiuse ancora più di prima e quindi è ancora più difficile poter comunicare là dobbiamo fare la svolta dobbiamo stare molto vicino alle persone quello è fondamentale questa è la cosa penso che dovremmo lavorare la SIARTI già ci ha detto come fare dobbiamo solo impegnarci personalmente dobbiamo capire sempre che potremmo essere noi dall'altra parte io ci sono stato quindi posso capire ancora meglio già prima mi comportavo in maniera affettuosa con i parenti ero sempre vicino a loro capivo il dramma che potevano vivere forse ancora di più lo sto facendo adesso speriamo che anche gli altri possono senza provare quindi faccio da buona provata negli scongiuri vabbè il cornetto no 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 qua c'è tutto qua il cornetto abbiamo anche il cavallo c'abbiamo tutto lo zocco di cavallo tutto quel documento Antonio è veramente stato per me una scoperta non tanto il risultato che è eccezionale adesso lo stanno pubblicando anche su una rivista internazionale ma si scarica gratuitamente dal sito è stata una scoperta scoprire quali valori aggiunti hanno messo in quel documento le altre competenze che abbiamo coinvolto da sempre la rete intensiva punto it tu hai citato Mistraletti ma non è solo la persona è anche il clima che si è creato in quella rete cercava di produrre dei documenti per l'umanizzazione delle cure non voglio dimenticare che iCare quest'anno l'avevamo dedicato alla tecnologia e all'umanizzazione delle cure credo che sulla tecnologia dobbiamo forse essere un po' più incisivi sui nostri comitati regionali e in questo voglio anche sottolineare che non tutte le regioni nella fase 1 hanno coinvolto professionisti come noi che erano inevitabilmente da coinvolgere poi per allocare i pazienti quindi l'errore della rete costruita forse in epoca di terremoti per catastrofi di quel tipo ha svelato come la medicina dell'emergenza che deve rispondere a queste pandemie alle quali dobbiamo gioco forza abituarci debba rivedere un po' la composizione dei comitati delle unità di crisi regionali io mi auguro che ora nella fase 3 4 chiamatela come volete si sia un po' più attenti sia sulla riallocazione delle risorse tecnologiche perché da sempre i nostri reparti non guardo il tuo che lo sappiamo che è al top ma i nostri reparti non solo in sala operatoria ma negli ambulatori nelle terapie intensive nelle subintensive l'avete detto voi peccavano un po' di attrezzature la competenza l'avete sottolineata e se Arti sta rivedendo il proprio piano di formazione anche per erogare formazione a chi non è abituato alle cure intensive perché sia partecipe dello sforzo in tempi di pace e l'altra cosa è il coinvolgimento del management mi spiace che qui in Campania non abbiamo pensato ma forse avete troppi direttori generali in tutti questi ospedali reti io non riesco a organizzare mentalmente però noi dobbiamo sforzarci di comunicare di più con loro perché dove li abbiamo coinvolti ieri per esempio l'altro giorno a Roma Lazzaro Spallanzani ci siamo resi conto che ascoltandoci comprendono l'altra metà della luna quindi io credo che il messaggio non sia solo il lavoro non sia solo nella propria azienda ma sia con il il governo clinico regionale ed è un lavoro che aspetta voi voi siete persone di spessore dovete assolutamente ottenere questo e l'altra cosa io dico la rete delle scuole di specializzazione che è aumentata perché chiaramente adesso sono arrivate borse in più nei prossimi cinque anni i percorsi forse andranno un po' rivisti tra ospedali e università questo è emerso nelle altre regioni penso che anche qui ne avrete avuto un numero importante sì ne abbiamo avuto un numero importante però noi un po' devo dire l'avevamo programmata già una rete formativa molto molto diffusa tra gli ospedali della regione quindi anche sull'area nel territorio assolutamente sì ci sta ci sta da voi ci sta da voi ci sarà con più precisamente con il Pasquale ci sta con tutti i grossi ospedali di riferimento ma anche di tutte le province proprio per dargli la possibilità di avere una formazione più completa ma soprattutto di poter rendersi conto anche delle diverse realtà perché non sappiamo loro dove andranno a lavorare poi per quanto riguarda volevo fare un piccolo appunto sulla comunicazione su cui tu lo sai che proprio sono assolutamente d'accordo e su cui seguo molto noi abbiamo provato a fare la terapia intensiva aperta ci eravamo quasi riusciti prima di richiuderci però ci ha dato una grossa mano una grossissima mano la psicologa che abbiamo con noi in rianimazione perché in effetti abbiamo cercato di trovare insieme il messaggio più giusto per i familiari in questo momento che sono fuori sono fuori non soltanto quelli dei covid ma sono fuori tutti i familiari e quindi abbiamo provato a fare le videochiamate abbiamo provato praticamente a coinvolgerli eccetera ed è devo dire che è andato molto meglio anche perché io penso che la comunicazione non debba essere un'informazione ma debba esattamente far parte del percorso di cura del prendersi cura di una persona quindi proprio su questo noi siamo stati molto molto concentrati e l'abbiamo inserita anche nel percorso formativo cioè noi facciamo dei seminari specifici su questa cosa proprio per cercare di cambiare volto alla comunicazione tra i medici e superare un po' quella medicina difensiva che ormai ci ha reso un po' troppo sulle nostre quello che diceva Antonio d'altra parte cioè si impara quando si fanno i corsi di TPM però in realtà poi è difficile da trasmettere a tutti i colleghi invece il covid ci ha un po' obbligato a utilizzare anche strumenti tecnologie è stata un'opportunità è stata un'opportunità dobbiamo leggerla in questo senso perché appunto credo che alcuni aspetti un'altra opportunità che è emersa nelle altre regioni per esempio è l'attenzione alle norme di prevenzione delle infezioni in ospedale che ci faceva maglia nera perché come Italia eravamo veramente fanalino di coda e adesso deve rimanere e deve creare una maggiore attenzione appunto alla prevenzione e alla lotta se volete aggiungere messaggi chiave abbiamo ancora 12 minuti dobbiamo approfittare del dolore che dicevi prima la presenza del dolore qualche cosa va detta devo dire perché poi sembra quasi la cenerentola della nostra branca invece io credo e lo dico a Maddorio Ragione avendo la possibilità di confrontarmi con tanti colleghi in Tiro per l'Italia invece il dolore è un aspetto importante che noi dobbiamo coltivare nella nostra specialità il dolore è stato penalizzato e la cura del dolore indubbiamente è stata penalizzata in questi mesi e questi sono dati trasversali che vengono da tutta Italia si è mantenuta l'attenzione sul dolore oncologico e devo dire anche sul presa in carico territoriale e domiciliare dei pazienti oncolodici credo che purtroppo per tante esigenze anche facilmente intuibili legate alla necessità che gli anestesisti diciamo erogassero cure intensive anziché terapia del dolore perché purtroppo non neghiamo che gli organici specificamente dedicati alla terapia del dolore sono sono rari in Italia e quindi questo è un obiettivo che ci poniamo anche come tavolo tecnico devo dire oltre che come società scientifica quella di fare un'analisi dei bisogni ma di insistere prepotentemente sulla necessità che ci siano team specificamente dedicati alla terapia del dolore ovviamente invece in questo periodo di pandemia dicevo la terapia del dolore è stata in qualche modo emarginata quindi accanto a tutti quelle emergenze sanitari che sembrano essersi dissolte in questo periodo a cui faceva riferimento Ferdinando io ci metterei anche la moltitudine di pazienti affetti da dolore cronico che non hanno avuto alcuna possibilità di cura hanno avuto limitatissimo accesso ai nostri ambulatori hanno avuto anche paura scusami perché Arturo è stata importante anche l'azione di convincimento quando abbiamo riaperto gli ospedali che c'erano percorsi sicuri i pazienti non ma voi pensate la dematerializzazione delle ricette cosa c'è noi parlavamo di comunicazione cosa c'è di più impersonale di una ricetta che non tenga conto di un approccio clinico quindi la dematerializzazione della ricetta anche per gli oppiaci è l'espressione massima di questa sofferenza che ha vissuto l'intero settore devo dire poi più volte è stato richiamato il collegio dei primari devo dire che noi come collegio dei primari abbiamo fatto anche un'altra cosa che la cena dovevi offrirla tu ma ancora non l'abbiamo vista vabbè sono napoletani siamo napoletani scusate questo è il bello anche di queste dirette no abbiamo messo su un sito SOS Covid che è stato un sito di informazione per i tantissimi colleghi giovani che erano letteralmente impauriti di fronte a situazioni che non sapevano affrontare questo sito SOS Covid del collegio dei primari in cui devo nominare due persone che hanno lavorato molto al sito che sono Marco Cascella che lavora con me e Delvio De Blasio che è l'ex presidente del collegio questo sito devo dire oltre ad avere tantissime visualizzazioni da tutto il mondo è stato uno strumento molto utile ai giovani colleghi perché hanno potuto conoscere metodiche hanno potuto fare riferimenti a bibliografie recenti o recentissime insomma questo l'abbiamo messo su un servizio per i giovani perché poi e questo rientra anche nello spirito si arti noi dobbiamo essere ormai siamo tutti diciamo avanti con gli anni diciamo così dobbiamo pensare a chi sta dietro di noi ai ragazzi ai prossimi e questo devo dire è un sito che poi dobbiamo riprendere credo adesso perché allora ve lo dico in diretta questo sito deve essere assolutamente messo anche in network con il consiglio regionale si arti e con i colleghi di proxima perché come dicevi si arti ha identificato i giovani che sono iscritti come proxima si arti non sono solo gli specializzanti ma anche sono quei colleghi che hanno preso servizio da poco non hanno ancora una collocazione precisa non sanno dove vogliono sviluppare quindi meno di 5 anni di servizio esattamente e questa è la fascia sulla quale dobbiamo lavorare per migliorare la qualità delle cure e devo dire questa è la fascia dei colleghi che hanno molto apprezzato questo sito perché noi coglievamo indubbiamente come devo dire le paure le incertezze nell'approcciarsi a malati così complessi quindi è stato uno strumento quindi la tua parola chiave per il futuro che possiamo portare a casa da questo confronto è fare rete fare rete pensare ai giovani farli crescere in una maniera forte perché le sfide che si trovano ad affrontare oggi ma che si troveranno ad affrontare domani saranno molto più impegnative sarà diverso il futuro assolutamente sì e gli verranno richieste sempre più competenze e responsabilità quindi questo è il messaggio dobbiamo pensare che i giovani sono ancora giovani e vedono in noi una guida e noi dobbiamo essere una guida certo Fernando tu hai messo la parola chiave importante di pensiamo anche al territorio quando i pazienti ritornano io credo che il covid da questo punto di vista può essere una opportunità perché ha messo a nudo come una pandemia del tutto imprevista come questa scopre tutti i punti dei bocchi dell'organizzazione non c'è niente da fare quindi sicuramente la rete fra gli ospedali ma anche una rete questa volta vera e integrata veramente con il territorio perché non la possiamo fare solo a chiaccia cioè abbiamo una serie di integrazioni che vanno fatte effettivamente subito con le cure domiciliari con il sistema del 118 cioè non possiamo continuare secondo me a lavorare a scagliù e noi che siamo i tecnici e i professionisti dobbiamo avere la capacità di fare in modo che chi governa il sistema ci ascolti e tenga conto delle nostre osservazioni perché come giustamente hai detto tu noi siamo quelli che sul campo possiamo verificare quello che effettivamente va fatto e come va fatto molti hanno anche sollevato il problema dell'edilizia sanitaria che forse va ripensata perché adesso si è scoperto tutto il valore di avere padiglioni separati o separabili percorsi separabili il monoblocco crea qualche problema tu che sei stato sempre un grande l'hai sempre vista lunga su questi aspetti noi dobbiamo non dimenticarci in campiani siamo stati commisterati per dieci anni e quindi fermi per dieci anni cioè senza lavoro di strutturazione senza personale il personale andava in pensione e si assumeva il 10% del personale in pensione quindi una cosa tragica devo dire che da De Luca in due o tre anni è riuscito a fare di miracolo una parola che lui usa spesso ha fatto un miracolo ha ragione ha fatto un miracolo perché altrimenti ci saremmo veramente stati un momento di crisi totale se non avessimo due anni prima iniziato a assumere da commissario quindi contro qualsiasi parere perché il commissario non può fare assunzioni lui conoscete come ha fatto ha iniziato già a fare assunzioni a cercare di ristrutturare adesso abbiamo dei fondi che possiamo utilizzare per ristrutturare tutti gli ospedali ci hanno previsto il nuovo ospedale San Paolo Napoli 1 Salerno Giuliano tanti ospedali saranno ristrutturati Cotugno avrà una strutturazione pensando esattamente qual sia l'obiettivo la missione da poter raggiungere io però devo dire devo chiederti una cosa posso fare una domanda al Presidente tu hai mai viaggiato da nord a sud no da nord a sud io noto parlo della Campania e mi riferisco alla cosa che Luca Lorini mi ha detto Luca Lorini mi ha detto a un certo punto ha preso gli oculisti e li ha messi a fare ventilazione invasiva io non dico gli oculisti ma esistono purtroppo tante realtà e mi riferisco alla Campania dove professionisti che potrebbero aiutarci in questo e mi riferisco cardiologi anche alcuni premologi per assurdo internisti per assurdo sarebbe per primi esatto che non sanno fare una cipolla addirittura gli alti flussi non riescono ad utilizzare dicendo che i loro infermieri non sono capaci quindi se questa è una realtà a livello nazionale l'Asia Arti potrebbe offrire gratuitamente utilizzando la realtà che ha nei propri ospedali ai direttori generali così fa capire ancora più la forza dell'Asia Arti dei corsi per fare una interazione invasiva io che non l'ho fatta la interazione invasiva perché non ho avuto necessità io mi sono ricoverato unicamente perché e questa è un'altra cosa che vi racconto del mio percorso da paziente non ti bruciare quello che ci racconterai dopo no no perché hanno detto che non mi ha più fatto quindi la raccontiamo così a spezie e toniche bene perché mi sono ricoverato dopo sette giorni che era a casa la temperatura era più o meno controllata con la tachipirina facevo gli antivirali che non si fanno più io ho fatto tutta la terapia che era allora antivirali forti sono bene mi sono ricordato perché mi chiama un amico primario e mi dice internista di fama e mi dice come stai e dico sì bene mi hai fatto una tach no per come c'è la tach sto a casa ma tu sei stato presidente dell'Asia Arti sei un primario di nazioni senza una tach e dico no allora c'è fa la tach e quindi mi chiamo all'amico pneumologo e dico senti mi ricordo mi faccio una tach nemmo gas non l'hai fatto no ecco nemmo gas e dico che figura faccio allora mi vado a ricoverarmi e devo dire che una tach sì avevo questa polmonite però in maniera molto così non importante l'emocassa era ottimale un bf di 350 quasi 400 e quindi mi ricovero e in questa stanza devo dire un percorso da carcerato perciò dice sempre la comunicazione l'umanizzazione ieri mi sentivo nonostante mi ho colato però era il percorso del paziente carcerato che arriva alla sua stanza a pressione negativa si chiude dentro il braccio della morte bene quindi mentre stavo lì si stiamo nelle mie cose stavo bene apro l'acqua calda non c'è l'acqua calda e allora chiedo all'esterno chiamo dico ma l'acqua calda bisogna far scorrere un po' l'acqua e poi arriverà l'acqua calda e così apro l'acqua calda dopo un po' arriva questa acqua calda dopodiché mi risento con l'amico premolgo dico ma scusa ma sono nella mia stanza il problema dell'acqua calda no è dovunque ma nessuno si lamenta ma tu lo vuoi capire che stanno tiocendo la cipà ma qual'acqua calda stanno tutti allettati i tuoi amici a fianco e io dico allora facciamo così visto che io sto bene prepariamo un cartellino per intubazione che se qualcuno dei pazienti dei miei amici pazienti ormai non dovesse avere un problema respiratorio io esco dalla mia stanza intubo nel frattempo arriva il collega a prenderlo porto in animazione dopo 24 ore io le mie indici infiammatori schizzate alle stelle cioè da 200 di dimero 1150 26 terlochina terlochina 6 26 260 proteina C da 4,5 15,4 clinicamente non era variato niente quindi io si fosse rimasta a casa avrei se potrei avere un problema esplosa all'improvviso e se è stato troppo tardi quindi subito è iniziato il clecxano 8000 per 2 abbiamo fatto il cortisone e il tocilizumab con la reazione allergia comunque per dire com'è tu hai colto nel segno perché è una cosa fondamentale che adesso queste figure professionali non mi riferisco agli oculisti ma cardiologi i premologi vabbè ma purtroppo anche nel cambio del premologo non tutti sono bravi a fare questo non sono bravi non lo sanno fare non lo sanno approcciare i cardiologi i medici interni allora dobbiamo lavorare a formare queste cose che non ci vuole granché l'Asia Arti con la sua forza può offrire e dare ancora più enfasi a quello che noi facciamo perché noi io devo dire una cosa una cosa positiva del covid che ha fatto capire l'importanza della necessità di un ospedale che è una figura centrale alcuni direttori lo sanno altri non anche loro lo sapevano perché molte cose non le sanno perché non le vivono io dico i problemi di un ospedale di qualsiasi parte lo risolve chi vive quella realtà non chi sa di fuori la realtà io non posso governare casa di Arturo Cuomo senza conoscere la casa di Arturo Cuomo come funziona non posso dare consigli a Arturo Cuomo mi riferisco proprio alla casa non all'ospedale quindi è questa l'importanza allora secondo me dovremmo fare questo lavoro per dare non abbiamo bisogno di dimostrare però potremmo aiutare a far capire l'amore grosso che abbiamo fatto noi mi fa piacere proprio confrontarmi con te perché la formazione partì durante il tuo triennio di presidenza e con il cambio dello statuto ero consigliere che facciamo insieme identificiamo il comitato di formazione e il referente alla formazione durante il periodo covid noi lo diceva bene Caterina abbiamo cercato di aprirci al massimo con webinar li abbiamo condotti fin dall'inizio con l'organizzazione mondiale della salute il Giviti e i colleghi delle regioni che avevano i numeri più alti non ci dimentichiamo che come Pasquale è il coordinatore delle regioni del sud Marco Rossi è il coordinatore delle regioni del centro e Astrid Berra del nord avrebbero avuto a disposizione degli eventi che il covid ci ha impedito di tenere che si chiamavano camp e che erano dedicati a aspetti specifici allora cosa abbiamo pensato di fare sicuramente di fare la formazione continuando gli incontri telematici come stiamo facendo ma anche quello di immaginare come adesso penso che dobbiamo sforzarci di continuare la vita di creare degli eventi che siano anche misti con la formazione a distanza e incontri in presenza ma che prevedono anche uno step di formazione nei centri di riferimento per vedere con mano e toccare con mano ovviamente rispettando tutte le regole delle precauzioni quello imparando dagli altri quello che si può organizzare non solo dove hanno avuto masse di pazienti che non erano gestibili altrimenti come appunto Lorini a Bergamo ma anche nelle altre regioni questo in viaggio con iCare ci ha proprio fatto emergere quanto sia stato importante la collaborazione allora è un problema che noi in Italia abbiamo e dobbiamo affrontare ma che vi svelo non credo che sia l'acqua calda anche l'Europa quindi c'è un progetto europeo per cercare di aumentare il livello di competenze minime tra medici e infermieri che non sono intensivisti che rivolto al Ministero della Salute Italiano ci darà la possibilità di guidare questa formazione non solo per i nostri soci che magari erano impegnati nella terapia del dolore o in sala operatoria che vogliono rinfrescare un po' i concetti perché la terapia intensiva è molto evoluta molto complessa ma anche di integrare l'assistenza con colleghi di altre discipline quindi questo è un disegno che stiamo accarezzando perché a livello europeo sottolineano come i modelli vadano unificati non solo sulla terapia intensiva in generale modelli organizzativi poi sono da rivedere col proprio Ministero io mi permetto di dire che in questo dramma che abbiamo vissuto è emersa tutta la criticità di avere modelli regionali quindi la società scientifica deve fare network e unificando il curriculum di aggiornamento professionale dando a tutti la possibilità di raggiungere uno standard adeguato indipendentemente dal fatto che la regione si muova o no per questo mi impegnerò con tutte le mie forze e con le forze del consiglio direttivo soprattutto dei coordinatori interregionali delle macro aree che abbiamo deciso vengano inseriti nel comitato di formazione proprio per percepire quali sono i bisogni le priorità dei bisogni e questo diciamo revisione dei piani di formazione sta ripartendo adesso abbiamo in previsione un consiglio direttivo dopo il congresso i care che ci impegnerà nei prossimi weekend di ottobre non ci dimentichiamo nemmeno che festeggeremo anche l'anniversario della nascita dell'anestesiologia perché il 16 saremo impegnati con i care ma è la giornata mondiale della nostra disciplina e quindi vorrei chiudere con un messaggio che è per il direttivo ma credo che sia per tutti gli anestesi animatori finalmente la popolazione ha capito che non siamo estetisti che siamo medici specializzati ci mettiamo 5 anni a specializzarci in anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore ci occupiamo anche di cure palliative siamo nei punti nascita a garantire la sicurezza e dobbiamo assolutamente comunicare meglio anche con la popolazione quindi il prossimo anno del mio direttivo del nostro direttivo sarà anche volto dare messaggi per la popolazione vi chiedo aiuto perché i collegi dei primari e la rete dei consiglieri regionali deve assolutamente impegnarsi in questo comune intento in conclusione mi sento di aggiungere che le potenzialità ci sono e sono veramente tante anche perché mi sono accorto in questo periodo ho avuto il privilegio di rappresentare la SIART in Italia Meridionale che la SIART è una società giovane una società giovane come dicevamo prima quindi nella formazione ma anche da un punto di vista anagrafico e sono veramente tantissimo e quindi ci sono ottime potenzialità per poterlo realizzare in un futuro prossimo dal mio punto di vista ovviamente posso aggiungere una cosa io penso che questa fantastica idea di allargare la formazione ci potrà aiutare anche a creare quelle strutture intermedie di cui parlavamo prima praticamente che si riescano a occupare di pazienti critici per l'evoluzione ma anche per assecondare nel step down assolutamente e poi un'altra cosa che potrebbe essere un messaggio visto l'inserimento anche della comunicazione il fatto di rendere assolutamente necessaria la presenza di psicologi e di fisioterapisti nelle rianimazioni nelle terapie intensive diciamo nelle cose nelle aree critiche elevate e poi un'ultima cosa che era quella che però hai chiesto già tu che il Ciparc ovviamente è a disposizione della Siarti per collaborare è a disposizione anche della regione per collaborare per quanto riguarda tutta questa emergenza covid quindi il collegio dei professori il collegio dei primari però mi aggiungo anche il collegio dei professori direttori delle scuole no scusa scusa ho sbagliato io perché non era il collegio degli ordinari è il collegio dei primari assolutamente quindi ad Antonio la chiusura io ho una cosa due cose la prima un grazie per essere qui da noi per quello che stai facendo e con questo questo grazie gli ho sottolineato con un applauso da parte della regione campagna degli anestesisti che ti dedichiamo in questo momento reale a loro e poi continuiamo così non ci fermiamo viaggiamo in modo tale da portare la Sialti forte in Italia anche in Europa tu sei in Europa sei ben conosciuta quindi con ogni mezzo anche in cambio esatto anche in cambio non ci fermiamo quindi continuiamo a viaggiare che stiamo facendo cose belle quindi grazie a tutti ringraziamo i nostri ospiti grazie a tutti da Napoli Flavia Petrini Antonio Corcioni vi auguro una buona giornata continuiamo a viaggiare grazie con ciarti si può grazie grazie a tutti grazie a tutti